Sia lodato Gesù Cristo Sempre sia lodato Polvere siamo e polvere torneremo In parte coglioni Pace e bene Ma... Ma... Che è venuto a dire le preghiere? Signor Manesciallo, ma lì fuori c'è una donna Non è una donna, è un allievo ufficiale Ma è nuda E appunto la stiamo vestendo, non vede? E vabbè, ma girano una per il campo Come va la tutina, la sua tutina è antivento, come va? Un difetto E vabbè, si spogli che la vediamo Ma qui, non vorrei disturbarvi Già perché l'ha dato poco che disturbo fino adesso Vada, si spogli, si spogli Le dispiace se le abbraccio, se no con tutte queste curve Sa, ho paura di cadere Le curve Ah, è lì che stanno queste zitelle da sistemare? Sì Vediamo cosa possiamo fare per loro Grazie Grazie Grazie